Ciao a tutti per Inside Work, stasera incontreremo Ox Martin, chitarrista dei Myland e insieme a lui scopriremo questo affascinante mondo. Venite con me! Attenzione! Avanti! Permesso! Ciao! Prego, ciao! Ciao! Come stai? Bene, e tu? Bene, bene, bene! Bella maglietta! Hai visto? Ottima scelta! Eh, beh, per l'occasione, giustamente! Dici cosa significa per te suonare la chitarra e che emozioni ti trasmette? Una bella domanda! Si! Allora, cos'è per me suonare la chitarra? Beh, ormai è diventata un'abitudine a cui non rinunciare, a cui non posso rinunciare, è una parte importante della mia esistenza. ho cominciato molti anni fa, ormai ho battuto i 40 anni, si può dire, e suono nei gruppi, in band, così da quando ero 20, per cui sono 20 anni di continuo ad andare in giro a suonare sui gruppi, continuare a suonare, a studiare, a cercare di progredire, per cui è una parte sicuramente molto importante della mia vita, della mia esistenza. Le emozioni che mi trasmettono sono più o meno le stesse sin dall'inizio, cioè un grande divertimento, un grande senso di soddisfazione, e anche un'occasione per poter stare con altri musicisti, per condividere lo stesso tipo di emozioni con gli altri. Questa è una cosa per me molto importante, mi sono sempre sentito molto più un chitarrista più da band, che un chitarrista di quelli che pensano magari più a fare una carriera solista, oppure a fare il professionista, il turnista, diciamo, lavorando, puntando più sul proprio nome che non su un progetto artistico, quindi mi sono sentito molto un chitarrista da band, e quello sono rimasto negli anni, ho sempre cercato di fare quello che ho fatto. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!